Il Piemonte è la quinta regione in Italia per numero di imprese rosa. Nel 2015 molti nuovi posti di lavoro hanno riguardato le donne, che però non accedono a posizioni di vertice e sono impiegate nei settori meno produttivi. Sono alcuni dei dati emersi durante il seminario Il lavoro delle donne nell'area piemontese, dati e proposte, organizzato dalla Consulta Femminile Regionale, per fornire un'analisi aggiornata dello stato dell'occupazione femminile in Piemonte.